Grazie a tutti. Grazie a tutti. La prima vittoria per la Mercedes nella 2 femminile di basket. I principali doveri in capo ai singoli consiglieri. Era stata Forza Italia per prima a condannare l'atteggiamento dei consiglieri di maggioranza. Sbigottisce e preoccupa come una vicenda così rilevante che ha caratterizzato un contesto dell'attività urbanistica degli ultimi 30 anni sia stato affrontato senza ovvero approfondimento che potesse chiarire le oscure ragioni che l'hanno generata e che ne hanno determinato un continuo rinvio. Ancora più duro è stato il consigliere del PD Enrico Daga che ha denunciato come quello che è accaduto in consiglio abbia dell'incredibile. Mentre il presidente della commissione urbanistica sulla pratica più importante da quando svolge la sua funzione in questa legislatura si è trovato di meglio da fare che presentarsi in aula rappresentando plasticamente il suo disaccordo e hanno dovuto aspettare l'avvento da oltremare della consigliere Oggiano, quella dell'UPC che all'opposizione con relativo Marameo al suo leader Cherchi hanno aperto una nuova fase di cementificazione della nostra costa che da vecchio PRG ricade in zona urbana. Nel merito, proseguito Daga, si sta spacciando la predisposizione di una mega variante urbanistica che vale migliaia di metri cubi di edilizia residenziale a sud della città a Calabona come se fosse un atto dovuto in assenza del PUC. Dunque, ricapitolando, per Maria Pia si aspetta il PUC mentre a Calabona, a fronte mare, si procede con varianti urbanistiche, l'affondo dell'esponente democratico che si chiede dove sia finito quello spirito del centro-sinistra sulle battaglie contro le giunte che anziché predisporre il PUC procedevano a colpi di varianti e dove siano finiti i duri e puri dalla sinistra, gli intellettuali di architettura e gli ambientalisti. Non meno duro il commento di Monica Apolina che assieme ad Alessandro Nasone compone il gruppo misto in consiglio. I nemici di ieri di Calabona oggi sono amici, applaudono chi si strappava i capelli per l'assalto alle zone sensibili, Maria Pia in primis. Oggi chiude gli occhi e sogna il cemento sul collo e fronte mare. Tutto questo in attesa del prossimo atto in barba, una pianificazione condivisa che spose gli interessi della comunità algherese silente in attesa di una amministrazione che voglia apparire meno sui media e occuparsi magari di risolvere i problemi sotto gli occhi di tutti ancora irrisolti in settori strategici della città come sanità, trasporti, turismo, decoro urbano, sviluppo economico, disoccupazione e casa. Attacca l'esponente di opposizione. Siamo ancora tutti in trepidante attesa e dopo due anni e mezzo di mandato i cittadini algheresi chiedono al sindaco che fine abbiano fatto le linee essenziali, i contenuti e i metodi che dovevano guidare l'azione amministrativa della città di Alghero. Le famose cinque parole, cambiamento, concretezza, visione, partecipazione e decisione, una città allo sbando, questa è la realtà, conclude la Polina. Trasparenza e interesse pubblico nelle scelte politico-amministrative. Dopo un lungo periodo di colpevole silenzio, finalmente il Consiglio adempia i suoi doveri. Esordiscono così capigruppo di maggioranza, esprimendo soddisfazione per l'approvazione in aula dell'interpretazione autentica del piano regolatore generale vigente che, sottolineano, dopo più di un decennio di immobilismo finalmente recepisce il parere del direttore del servizio provinciale urbanistica e vigilanza della regione autonoma della Sardegna secondo il quale non sussiste un dovere di pianificazione congiunta delle zone C1 a Monte e a Valle della provinciale Alghero Bosa in località Calabona. Tale parere rilasciato il 18 giugno 2001, ricordano i capigruppo, contraddiceva la scelta dell'allora Consiglio Comunale che, con la delibera numero 69 del 2000, decise invece di non approvare il piano di lottizzazione proprio con la motivazione che vi dovesse essere una pianificazione congiunta delle due sottozone C1. Oggi finalmente si dà certezza di diritto e il Consiglio Comunale ritorna ad essere protagonista delle scelte urbanistiche del proprio territorio, rimarcano gli esponenti di maggioranza. L'odierna decisione del Consiglio dovrà ora passare al vaglio degli organi regionali competenti che potranno o meno concordare con la scelta dell'Aula. Successivamente il Consiglio, se lo riterrà, potrà valutare l'interesse pubblico su un'eventuale nuova proposta di lottizzazione convenzionata. I capigruppo di maggioranza si dicono poi dispiaciuti per l'assenza dei colleghi di opposizione che spiegano, nonostante la delibera fosse stata ampiamente sviscerata in modo approfondito in Commissione Urbanistica, dove sono stati analizzati numerosi documenti agli atti e il parere pro veritate rilasciato dal professor Dorsogna, hanno scelto di non partecipare ai lavori dell'Aula, sfuggendo ai principali doveri in capo, ai singoli consiglieri. Troppe volte in questa città la politica non è stata capace di assumersi le proprie responsabilità. Non sappiamo se semplicemente per incapacità, paura di compiere delle scelte o per difesa di interessi particolari. Oggi finalmente si apre una nuova pagina in cui si ristabilisce certezza del diritto con decisioni chiare e trasparenti. Su questa vicenda è intervenuto anche l'ex sindaco, ora consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, interpretazione autentica o pasticcio in salsa catalana, in ballo, interesse pubblico, interessi privati, si chiede l'esponente Azzurro. Il Consiglio Comunale con le delibere 69 del 2009 del 2001, non annullate dal Tar, in accoglimento delle osservazioni di alcuni consiglieri, fra i quali sottoscritto e l'attuale presidente della Commissione Urbanistica, Curedda, aveva già espresso una volontà interpretativa, nel senso che le due aree a monte e a valle della strada dovevano essere lottizzate unitariamente, spiega Tedde. Il parere non vincolante della regione del 2001, di segno opposto, indicava la strada della variante, che in assenza di PUC non è praticabile. Consegue che un'interpretazione era già stata data dal Consiglio Comunale, e le due delibere sono ancora valide. Ora attendiamo nuova proposta di lottizzazione del candidato di un partito che sosteneva e sostiene l'attuale sindaco, conclude il consigliere regionale Forzista. E noi ci lasciamo per la pubblicità. Ancora politica in apertura di seconda parte del nostro telegiornale. Il sindaco, che negli ultimi giorni è stato il bersaglio anche del segretario cittadino del PD, Mario Salis, che in una nota ha denunciato come restino irrisolti i nodi politici, la cui risoluzione traghetterebbe fuori dalle sabbie mobile e dalla stagnazione il nostro territorio. Salis cita il PUC, ma anche la realizzazione di importanti infrastrutture, quali il primo lotto della strada a quattro corsie per Sassari, che sottolinea il segretario democratico, aveva superato tutti gli adempimenti per i quali sono stati necessari anni ed era pronta per l'accantieramento. È stata rimandata a tempo indeterminato per la improvvida richiesta da parte del sindaco di modifica del progetto. La circonvallazione, i cui lavori avrebbero potuto iniziare subito, prosegue Salis e ferma al palo. Sindaco, che dal canto suo ha replicato dalla propria pagina Facebook, il segretario locale del PD, prima di parlare, dovrebbe come minimo documentarsi. Sulla circonvallazione sono stati aggiudicati da mesi definitivamente i lavori. Siamo nella fase della progettazione esecutiva e degli espropri. I lavori, salvo imprevisti, inizieranno nella prima parte del 2017, ha fatto sapere Bruno, mentre sulla Sassari Alghero ha detto è falso dichiarare che il Comune ha espresso parere negativo al vecchio tracciato, piuttosto che il mancato parere positivo alla valutazione di impatto ambientale da parte dei Ministeri Cultura e Ambiente ha prodotto una nuova istruttoria che riducendo gli impatti ha incluso, con le stesse risorse, anche la bretella per l'aeroporto. Siamo nella fase che precede la conferenza di servizi per l'approvazione del nuovo tracciato, ha poi aggiunto il primo cittadino. Lasciamo la politica. Parliamo ora del maltempo. Anche la Sardegna in questi giorni è attanagliata dalla morsa del freddo che il meteo aveva previsto anticipatamente. Gelo e neve si sono presentati sull'isola. Ad Alghero non ha nevicato, come invece è accaduto nella vicina Porto Torres, ma sicuramente le temperature basse si stanno facendo sentire anche nella riviera del Corallo. Niente neve, ma pioggia caduta abbondante, soprattutto tra sabato e domenica, e che, come ormai capita spesso, ha provocato disagi, soprattutto sulla passeggiata a Barcellona. Ieri mattina, infatti, la strada si presentava lagata in diversi punti e si è reso necessario gli interventi di alcuni operai delle manutenzioni coadiuvati dalla polizia locale che hanno lavorato per riportare la normale circolazione su quel tratto. Le immagini che invece state vedendo in questo momento si riferiscono alla strada che da Alghero porta a Villanova, anche nel comune montano è arrivata la neve che ha imbiancato il paesaggio, ma non sono mancati disagi proprio per i collegamenti in mezzi pubblici come i Pullman, che hanno avuto qualche difficoltà. Le previsioni del tempo parlano del permanere di questa condizione. Fino a mercoledì, con le temperature ancora lieve calo ad Alghero, questa mattina alle 9 il termometro segnava 3 gradi. Ed ora ci lasciamo ancora. Si parlerà della nurra algherese nella quinta puntata di Mica Sdevira Algarese. La trasmissione in onda su Catalan TV oggi, 16 gennaio alle 15.30, 18.21. E in replica mercoledì, 18 gennaio, con gli stessi orari. Michele Serra incontra Salvatore Masa, la componente dell'Associazione Mondo Rurale di Guardia Grande, intervistato durante la giornata di chiusura delle manifestazioni che per oltre un mese si sono svolte proprio nell'agro di Alghero e con protagonisti, appunto, le diverse borgate. Dibattiti, manifestazioni culturali e incontri con esperti del territorio e residenti hanno messo in risalto le innumerevoli occasioni di sviluppo che il territorio può offrire. In questo senso ottima l'organizzazione con a capo il presidente del Comitato Zonale Nurra, Daniele Dora, e della componente dell'Associazione Tiziana Lai. Le riprese e il montaggio video di Mica Sdevira Algarese sono a cura di Claudio Serra, mentre la direzione di produzione è affidata a Roberto Lampis. Passiamo allo sport, iniziamo con il calcio, domenica caratterizzata, come detto anche dai nostri titoli del sommario, da molte partite rinviate per maltempo. In prima categoria, largo successo dell'Olmedo al Mariotti, in seconda invece è sceso in campo solo il Treseliges, ma sentiamo nel prossimo servizio come è andata. La doppietta di Pintus e il gol di Pinna hanno regalato all'Olmedo la sesta vittoria stagionale, grazie a un'ottima prestazione corale che consente ora ai Biancoverdi di respirare un po' l'aria ad alta classifica, visto che il secondo posto è lontano appena a 5 punti. Concludere il campionato nelle prime posizioni non è l'obiettivo della formazione, allenata da Luca Marcomini, che sta dimostrando però di meritare la posizione in classifica. Il 1945 Alghero invece vede assottigliarsi il vantaggio sul terzo-ultimo posto, solo due punti separano i giallorossi dalla Frassati. Eppure era stata proprio la squadra dei tessitori ieri ad avere la prima occasione per portarsi in vantaggio, con il palo colpito da Raimondo Serra su punizione. Quindi, poco dopo, il gol di Pintus, che ha indirizzato la partita in favore dell'Olmedo, e a metà primo tempo il raddoppio di Pinna su calcio di rigore. Nella ripresa, l'Alguero ha provato a riaprire la partita senza però riuscirci e i Biancoverdi hanno chiuso il match con Pintus, che ha così siglato la doppietta personale. Nel gironelle di seconda categoria, tre partite rinviate, comprese quella tra Pattada e Audax e tra Maristella e Itir. È sceso in campo solo il Treseliges a Sassari contro la capolista Lanteri, che ha travolto 4-1 l'undici di Angelo Bardini, consolidando così il primo posto. Domenica è in programma il derby tra Treseliges e Maristella a Villa Assunta, mentre l'Audax ospiterà a Santa Maria la Palma e Sogma. E ora facciamo l'ultima pausa pubblicitaria, poi ci ritroviamo in studio per parlare di basket e rugby. Nell'undicesima giornata ultima del girone di andata del campionato nazionale di Serie B, l'amatori rugby alguero ha perso per 51-31 sul campo del Biela Rugby Club. Nonostante la sconfitta, gli algheresi tornano a casa con un punto. Domenica prossima al Via, il girone di ritorno, gli algheresi ospiteranno il Cus Milano. È ritornata sconfitta l'amatore rugby alguero dalla trasferta sul difficile campo del Biela Rugby Club. 51-31 è il punteggio con il quale si è chiusa la gara, che comunque ha consegnato un punto agli algheresi, viste le quattro mete realizzate. Anversa e compagni non sono riusciti, purtroppo, a conquistare una vittoria in trasferta che sarebbe stata importante per la classifica, data anche la distanza di solo un punto dai biellesi alla vigilia. C'è da dire che la compagine algherese presentava alcune defezioni. Nel primo tempo le due squadre hanno fissato il punteggio parziale sul 20-17, sei mete realizzate, quattro del Biela e due dell'Alguero, che ha messo a segno anche un drop con Samuele. La squadra algherese ha anche dovuto fare a meno per 10 minuti del suo allenatore giocatore, che si è visto sventolare dall'arbitro un cartellino giallo, e questo non ha sicuramente giovato alla squadra. Nel secondo tempo il Biela trova altre cinque volte la via della meta, mentre l'amatore, che con i suoi non si è trovati in molti casi in linea con le decisioni arbitrali, ne segnerà due nel finale di gara con Samuele e Padeu, entrambe trasformate da Anversa. Il turno di ieri chiude il girone di andata. Domenica prossima Maria Pia, l'amatore Reggliero, aprirà il girone di ritorno, ospitando in casa il Cus Milano. Ed ora invece vediamo i risultati delle nostre formazioni cestistiche. Cominciamo con la Mercedes, quindi con la serie femminile A2. Sabato al Palacorbià ha ritrovato il sorriso e conquistato la prima vittoria stagionale. Le ragazze di Manuela Monticelli, trascinate da una buonissima prestazione della bulgara Georgieva, 25 punti per lei, hanno vinto il derby che le ha opposte al Cus Cagliari per 50-44. La gara di sabato era volevole come prima giornata del girone di ritorno. Passando alla palla canestro maschile, quindi alla serie di regionale, netta sconfitta per la Coral 2016 nell'ultima gara del girone di ritorno. Gli algheresi di coach Granchi hanno perso 80-58 per mano della capolista Basket Uri Club. C'è da dire che la formazione presentava numerose defezioni. Nonostante la sconfitta alla Coral si è guadagnata il passaggio alla seconda fase. Infine nella serie C femminile regionale, vittoria per la palla canestro Alghero, che nella quarta giornata del girone di ritorno ha battuto in casa per 52-45 il Basket Quartus Sant'Elena. Altri due punti guadagnati per la formazione guidata da Antonella Ledda che sale così a quota 10. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo. Vi ringrazio come sempre per averci seguito. Arrivederci.